Nona generazione della station wagon in salsa tedesca 4 metri e 91 di lunghezza parto con raccontarvi il frontale che si rinnova nelle linee con un paraurti per questa che è la R-Line un po' più cattivo fare i full led su tutte le versioni qui siamo di fronte a quelli che sono i matrix led che sono ovviamente opzionali 50 anni di storia 30 milioni di esemplari venduti e nuovi motori per questa prima vettura che nasce sull'evoluzione della piattaforma MQB Evo si allunga di 14 cm rimane alta uguale quindi la forma è sicuramente molto più slanciata molti sono i dettagli cromati su questa versione R-Line c'è anche la possibilità di averli in nero cosa che io sinceramente preferisco di gran lunga questi sono dei cerchi da 19 pollici con un design tra l'altro che richiama particolarmente il design di alcune vetture elettriche i gruppi ottici posteriori a led anche qui con questo effetto 3d molto carino si uniscono tra di loro vi faccio vedere quella che è la capacità del bagagliaio ovviamente attuato elettricamente con anche varie soluzioni per modulare il carico 690 litri sono fino alla cappelliera quindi in realtà sono decisamente di più le finiture sono davvero buone qui abbiamo anche un ampio postetto posteriore perché siamo di fronte ad una versione 100% termica dopo vi parlo delle motorizzazioni però sicuramente la linea di questa Passat è molto imponente il progetto sostanzialmente deriva in maniera abbastanza stretta da quella che è la Skoda Super B infatti viene prodotta nello stesso stabilimento vi faccio vedere quelle che sono appunto le sue linee esterne in questa versione R-Line che secondo me è la più accattivante grande lavoro è stato fatto dal punto di vista delle sospensioni in questa piattaforma MQB Evo però adesso vi porto a vedere l'interno vi faccio notare la parentela con Skoda anche dal fatto che ci sia l'ombrellino sulla portiera anteriore anche se ci raccontavano che in realtà la prima ad aver avuto quest'idea dell'ombrellino ovviamente assieme a altri tipi di vetture è stata in realtà la Passat B6 di qualche anno fa a livello di finiture nella parte sottostante c'è un po' di plastica croccante però bene che ci sia il rivestimento almeno in una parte del vano porta oggetti qui bene i dettagli in Alcantara molto bene anche l'illuminazione lounge vi porto all'interno di questa Passat Passat che cresce davvero tanto dal punto di vista della qualità degli interni anche se comunque prima male non era i nuovi comandi derivati da quelle che sono le ID il volante fa un passo indietro per farne due avanti nel senso che abbiamo i comandi fisici e non touch direi molto bene molto bella questa finitura comunque davvero molto molto carina come bella anche appunto l'illuminazione che vedete qui molto bene anche il fatto che ci sia il nuovo Mib 4 ovvero il sistema che abbiamo visto debuttare sulla ID7 che può essere da 12,9 o da 15 pollici come in questo caso molto prestante dal punto di vista dell'hardware proprio fisicamente tra l'altro abbiamo anche i sedili ergo active massaggianti e ovviamente raffrescati e riscaldati noi in questa versione ovviamente sono un optional però vedete che abbiamo la possibilità di massaggiare qui tutte le impostazioni e gli shortcut di guida tra l'altro anche il led al display finalmente senza pateletta perché si aveva ancora la pateletta nella Passat però bene è un'evoluzione davvero importante questo Mib 4 dal punto di vista del sistema infotainment tutti gli assistenti alla guida di ultima generazione con il lane change con tutte le funzioni di sorta e anche parcheggio automatico e parcheggio da remoto a livello di spazio ce n'è davvero tanto perché ovviamente manca tutta la parte di selettore del cambio qui spostata qui nel diciamo devio luce a destra come nelle ID questi sedili airline sono davvero tra l'altro molto molto belli e molto comodi ma a livello di spazio si sta davvero in maniera eccezionale io adesso regolo il sedile nella mia posizione tra l'altro questo è mezzo manuale quindi vuol dire che è un sedile anche diciamo abbastanza basico ma già questo è molto comodo il cruscotto completamente digitale da 10-25 pollici non vi sto neanche a dire che abbiamo lo specchietto senza cornici molto bene il tetto apribile che dà un sacco di luminosità all'interno di questo abitacolo che è proprio il classico abitacolo Volkswagen che ti aspetti è stato fatto davvero un passo indietro nella realtà dei fatti da quelli che erano i dettagli interni dell'ID per farne tre avanti con un sacco di concretezza in più da questo punto di vista ovviamente adesso lei si nervosisce quindi vado a spegnere il quadro vi porto anche a vedere quella che è l'abitabilità posteriore che per una vettura con oltre 2,70 metri di passo non è davvero un problema ci sono tre dita di spazio la macchina è lunga 5 metri quasi 4,90 metri cresce di 15 centimetri quasi tutti sul passo e devo dire che qui dietro si sta veramente in maniera eccezionale tra l'altro ci sono le tendine ci sono tutta una serie di dotazioni veramente molto interessanti vi faccio dare un'occhiata di nuovo anche da qui a quella che è la plancia della vettura di serie su tutte le versioni abbiamo un cruise control adattivo piuttosto che fari completamente a led carplay e android auto climatizzatore automatico con le prese USB tipo C da 45W quindi insomma tutta una serie di dotazioni già nelle versioni base veramente molto molto interessanti siamo in compagnia di una versione Elegance quindi vedete con dettagli completamente diversi dal punto di vista dell'R-Line cambia anche e soprattutto il paraurti anteriore veramente molto diverso però caratteristico di questa passa di nuova generazione e tra l'altro qui abbiamo anche quella che vi dicevo la R-Line con tutti i dettagli neri che sono veramente molto molto piacevoli vi faccio vedere essendo in compagnia di una versione plug-in hybrid nel fatto che abbiamo sì la ricarica in C a 11 kW ma abbiamo anche la DC a 50 che su una plug-in non è così usuale però sicuramente con una batteriera 20 kWh in circa mezz'oretta abbiamo la batteria carica completamente dallo 0% vi faccio vedere anche il bagagliaio posteriore che nella versione plug-in oltre ad avere la tendina che rientra in maniera automatica ovviamente abbiamo un po' meno spazio nel bagagliaio perché qui sotto c'è la batteria ma c'è anche il vano per riporre i cavi qui vi faccio vedere i sedili della versione elegance qui gli ergo active completamente elettrici con la funzione massaggio gli interni chiari ovviamente caratteristici e optional però vi faccio vedere anche essendo questa è una versione plug-in quindi posso accenderla al 100% anche quella che è la nuova grafica del sistema di infotainment come vedete anche qui il sistema accendiamo anche un po' il climatizzatore che tanto male non fa accendiamo anche il sedile ventilato per avere il massimo del comfort però vi faccio vedere come è personalizzabile il sistema di infotainment come tra l'altro la parte ibrida sia personalizzabile perché in hybrid possiamo settare anche il fatto che la batteria venga mantenuta ad una determinata percentuale di ricarica nei driving mode possiamo settare il individual con il dynamic efficiency control pro di cui vi parlavo prima il sound generator esterno che avrei preferito non vedere però lo sterzo, il sistema di power time cruise control attivo, le luci e l'aria condizionata vi faccio vedere anche qui che c'è la possibilità di settare in maniera veloce anche la modalità di recupero dell'energia ci dicevano che la modalità I non è altro che una sorta di modalità B non abbiamo nessun tipo di guida one pedal però abbiamo un buon livello di recupero dell'energia appunto simile a quello che è il B delle ID motorizzazioni a partire dal 1500 MyDigrid a 48V per arrivare ai 2000 TSI in varianti di potenza da 204 e 265 CV quest'ultima in versione solo a 48 motrici per arrivare al diesel da 150 o 193 CV anche quest'ultimo in versione 4Motion la grande novità della piattaforma è sicuramente la versione plug-in che monta il motore 1.5 150 CV il motore termico nella versione con potenza combinata a 204 CV mentre il 272 CV sono i CV con il motore termico da 177 CV motore elettrico integrato nel cambio da 81 KW e soprattutto batteria da 19.7 KWh tutte le versioni hanno di serie il cambio DSG a 7 rapporti a parte la plug-in che ha una versione a 6 rapporti appunto con il motore elettrico integrato però bene che ci sia di serie il cambio automatico su tutte le versioni gamma che si compone a partire dalla versione business per passare alla versione elegance che state vedendo qui in copertura per arrivare alla R-Line lancio nel febbraio 2024 dove la guideremo e prezzi tedeschi a partire da circa 39.000 euro anzi direi 40.000 euro detto che i prezzi tedeschi di solito sono qualche migliaia di euro inferiori rispetto ai prezzi italiani perché? perché in Germania magari la versione di accesso ha meno dotazioni rispetto a quella importata in Italia però vi da sicuramente quello che è un riferimento fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova Passat e direi che ci vediamo al prossimo video ciao ciao